Grazie a tutti. Prego, collega, su. Benedetti. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Fucci, raccomandazione, va bene? Onorevole Palese, mi dia un cenno. Albanella, raccomandazione, ok. Giacchetti, contrario, dichiara aperta la votazione. Simoni. Sorial. Invernizzi. Invernizzi. Provi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Censore, riformulazione, accolta. Carrescia, raccomandazione, va bene? De Menec, riformulazione, va bene? Vignali è favorevole. Aiello, contrario. Dichiaro aperta.